Sei stata un anello di una lunghissima catena, niente di più, ma almeno hai gentato, oltre a te, e prima che venga notte, degli uomini. E' questo il principio della vecchiaia, capire che hai passato il testimone, fra non molti anni vivranno al posto tuo, poi di te non si ricorderà nessuno. Come il grano, che cresce ad ogni estate, muore e risputta l'anno dopo dai semi. Ma, si comporteresti di essere stata solo un semi, se sapessi che quando muori ogni cosa finisci? E allora, più di prima ti aggrappi all'unica schiaranza, tra le tante che ora ti sembrano solo ombre. Poi una sera, quando tutti sono andati a dormire, quel figlio quasi grande ti domanda, con un accento di sgomento, se davvero tutto non finisce con la morte. E dov'è adesso il nonno, che se ne è andato da poco? Allora parli, quelle domande le stesse dei tuoi 14 anni. E mentre parli, ti accorgi che ora tutto è vero, infinitamente più vero di allora. I miei bambini faranno qualcosa, speriamo qualcosa che gli piaccia. Per quello che posso fare, l'importante è che trovino la loro faccia. I miei bambini imparano tanto ed insegnano anche molto. Per quello che posso fare, l'importante è che trovino il loro volto. I miei bambini sono uguali agli altri, se non fosse per il destino. Quella scintilla originale, che rende unico il loro cammino. E ti accorgi, ti accorgi che la speranza che dici a tuo figlio non è di impararla sui libri. E' stata riempita di consistenza, è stata accolmata di verità dal tempo. Diventare vecchi è anche questo. Allora è anche una pace. Per il tuo figlio non siamo nulla, non siamo mai soli. Per il tuo figlio non siamo nulla, non siamo nulla, non siamo nulla, non siamo nulla, non siamo nulla. Per il tuo figlio non siamo nulla, non siamo nulla, non siamo nulla.